Io sono Giulia Albanese, sono la coordinatrice di un progetto dell'Istituto Nazionale Parri sui luoghi della memoria fascista. L'Istituto Nazionale Parri ha deciso in occasione, in concomitanza con l'anniversario dell'ascesa al potere e del fascismo, il centesimo anniversario, di riflettere sui modi in cui la memoria del fascismo si sia preservata nel nostro paese e che tipo di connotazioni abbia assunto. Per farlo l'Istituto si è dato l'obiettivo attraverso il lavoro di volontari, attraverso la rete dei tanti istituti della resistenza sparsi sul territorio nazionale, di mappare i nomi delle vie e le intitolazioni di luoghi pubblici che si rifanno al passato fascista e cioè che rievocano eventi, luoghi o personaggi del ventennio fascista e di osservare, analizzare e studiare quei luoghi di questa memoria del fascismo che sono ancora oggetto di commemorazione da parte di organizzazioni politiche filofasciste o della destra radicale che ripensando e riandando con la memoria al ventennio fascista raccontano delle cose sui loro progetti politici e sul modo di pensare il presente. L'idea di fondo è che le nostre città e il nostro paese continuano a conservare molte tracce del passato fascista di questa nazione sotto forma di edifici, di monumenti, di nome di strade, di scuole. In alcuni casi questi simboli, monumenti e strade sono presenti nella nostra vita quotidiana senza essere oggetto di commemorazione o ricostruzione memoriale specifica. Giacciono lì muti ma presenti e sono il segno di una storia che ha fatto fatica ad essere ripensata e rielaborata ma che nello stesso tempo non è oggetto di commemorazione e non è oggetto di, diciamo, una costruzione memoriale che guarda il futuro. In altri casi invece questi luoghi sono oggetto di commemorazioni e cerimonie che portano segni politici diversi. Allora l'obiettivo è di riflettere su questi temi avviando una mappatura di questi luoghi e quindi prima di individuarli, di analizzarli e di vedere in che modo sono rimasti vivi fino a noi o quando sono stati creati e rielaborati. In questo modo dovrebbe essere possibile verificare una geografia di questi monumenti e di questi nomi ricorrenti nelle nostre vie cittadine, capire in che modo, se esse sono tracce del ventennio oppure se sono il frutto di rielaborazioni più recenti e ci dovrebbero permetterci di ricostruire la storia e le ragioni che sono alla base di queste intitolazioni e della permanenza di queste intitolazioni o di questi monumenti anche nella storia dell'Italia repubblicana. Il progetto quindi permetterà di leggere e analizzare diversi modi in cui nelle composite comunità locali e territoriali di questo paese la memoria del fascismo è stata preservata o ricostruita e come questa costruzione si collochi in relazione con altre memorie politiche e che ruolo abbia nel corso di questi ultimi anni in una fase di rilegittimazione dell'esperienza fascista o di sua normalizzazione. Come vi dicevo io coordino questo progetto insieme ad un comitato scientifico che è composto da Lucia Ceci, Costantino Di Sante, Filippo Focardi, Mentella Montanari, Nicola Labanca, Igor Pizzi Russo e Antonio Spinelli. Si basa sul lavoro spesso volontario di collaboratori degli istituti storici della resistenza e della società contemporanea che appartengono alla rete dell'Istituto Nazionale Parri ma anche di studiosi indipendenti che hanno scelto di collaborare a questo progetto credendo che esso potesse essere un modo per ragionare tanto sul passato che sul presente di questo paese. Grazie per la visione!